Ci sono voluti 15 anni di negoziati e alla fine, il 4 marzo scorso, i paesi dell'ONU hanno raggiunto un'intesa per l'adozione di un trattato per la protezione dell'alto mare e degli oceani. Si tratta di un accordo scudo contro le tante minacce alla salvaguardia di ecosistemi vitali per la biodiversità.